Benvenuti a PCE Instruments, il vostro fornitore di strumenti di misura per l'industria, il commercio e la ricerca. PCE, Professional Calibrated Equipment. Ho qui sul mio tavolo il PCE PPS 3305 della casa PCE. Parliamo di un power supply, vale a dire un alimentatore programmabile. Un alimentatore particolare perché fa più di fornire corrente con una tensione corrente costante. Primo consta di tre dispositivi diversi e indipendenti l'uno dall'altro. Dall'altra parte si possono impostare e programmare le due parti principali. È possibile attivare un'uscita attraverso un timer. È possibile impostare diverse tensioni e valori. È possibile generare delle quasi onde perché sono un po' quadrate e altre cose. Tutto questo si può memorizzare nel dispositivo. Quando si spegne rimane salvato e può essere recuperato in seguito. Poiché questo è astratto, mostrerò come funziona. Ha un bel display di facile lettura che permette di visualizzare i parametri impostati in quel momento. Possiamo vedere nelle linee superiori da sinistra a destra, per prima cosa il canale 1 che ha 31,1 volt e che ha impostato una frequenza di corrente di 5,2 ampere. Questi sono valori limite, da un poco più di 30 volte più di 5 ampere. Il canale 2 è lo stesso, ma il canale 3 è un po' diverso perché ha 5 volt. Ma posso commutare il canale 3. Se premo questo pulsantino qui, guardate una volta qui. Qui sopra, premo qui. Adesso abbiamo una tensione di uscita costante di 2,5 volt, 3,3 volt e adesso di nuovo 5 volt. Questo vuol dire che questo canale qui sotto, con questi connettori, lo posso impostare con tre diverse tensioni di uscita e mi fornisce 3 ampere. Accanto possiamo osservare le connessioni. Questo è il canale 2 e accanto il canale 1. E qui abbiamo la massa. Questo vuol dire due uscite per alimentatore principale. Questo lo posso impostare adesso. Ecco. Ho la possibilità, qui sopra, di passare una volta al canale 1. Lo accendo. Così. Quindi premo questo tasto per passare alla tensione. Ora ho la possibilità di modificare la tensione a passi di 0,1 volt. Posso anche passare a un altro decimale. Per esempio, qui. O passare al punto 1 milivolt e modificarlo. Così. E se voglio impostare in modo approssimativo, vado al decimale 1 volt e modifico. La stessa cosa succede se ora premo il tasto corrente. Anche qui ho la possibilità di modificarlo. Bene. Una volta che l'ho impostato per le mie necessità, lavori, eccetera, allora posso accendere questo canale qui. Ora, i valori che ho aggiustato e che sono quassù, i valori nominali, sono registrati nella parte inferiore. Non si leccano bene. E il valore è reale. Ma posso cambiare nell'aspetto. Se ora premo qui, così ottengo uno schermo più grande e più nitido che posso leggere a distanza. Indica le impostazioni effettuate in grande formato. Indica anche la corrente che fluisce nel caso avessi collegato un dispositivo. Simultaneamente la moltiplicazione, vale a dire la potenza in Watt. Posso anche visualizzare questa schermata in questo modo, sempre a seconda di come si ottengono o siamo abituati a leggere i valori. Lo stesso succede con il canale 2. È esattamente lo stesso. Con il canale 3 vediamo che possiamo cambiare la tensione. Qualcosa più che sufficiente. Qui sotto anche la possibilità di OVP, vale a dire impostare la sovraccarica. La tensione, vale a dire quando c'è sovratensione e la sovracorrente. Queste sono altre funzioni. Trigger può darsi che conosciamo questa parola ad altri dispositivi. Significa che il controller commuta entrambi i canali in parallelo. Questo significa che con la stessa manopola possa aumentare e diminuire la tensione e la corrente in entrambe. e anche questo è utile quando cambio a modalità seriale. Lo abbiamo qui. In modalità di funzionamento in serie, le due uscite si collegano in serie. Allora posso prendere la tensione da qui a qui, cioè la somma di entrambi i canali. Ma questi sono sempre identici. Lo schermo si moltiplica semplicemente per due e non è necessario calcolare nulla. E lo stesso vale per il collegamento in parallelo di corrente. Da qui possiamo ottenere non solo 5,2 A ma 10,4 A. Pertanto, un dispositivo che viene azionato non solo tramite la manopola rotativa, ma posso anche inserire la tensione e la corrente tramite la tastiera. Quindi posso scegliere. È una questione di preferenza. Alcuni usano sempre la manopola rotante. A casa ho un dispositivo in cui uso la tastiera da anni e funziona. E poi ho la possibilità qui di impostare diversi parametri. Si rimane colpiti dal fatto che sul lato destro troviamo un indirizzo IP. Questo dispositivo viene fornito con il software. Usa una rete. Significa che posso controllarlo da un computer o dalla rete o tramite USB. Posso controllarlo completamente a distanza e ovviamente con la visione remota. Se l'ho installato nel semiterrato e sono seduto in ufficio posso controllarlo da lì. Questo è quello che abbiamo qui. Troviamo anche altre cose. ho anche la funzione timer. Posso impostare i parametri del dispositivo salvarli in diverse posizioni di memoria recuperarli e attivarle. Un processo che indica graficamente la forma d'onda come l'abbiamo regolata e vogliamo che appaia. Ci sono test test in cui la tensione e la corrente vengono costantemente aumentate e diminuite e tutto ciò lo posso memorizzare e visualizzare. Come si può vedere è maneggevole e piccolo con una presentazione chiara. Ho anche la possibilità di visualizzare ciò che ottengo o in altre parole visualizzare gli output. Vuole dire beh non è davvero uno oscilloscopio perché non lo fa come lo conosciamo normalmente ma ho almeno un visualizzatore che traccia graficamente i valori sull'asse del tempo permettendomi di vedere dopo cosa è successo. Ora potrei se un dispositivo causa un cortocircuito o qualcosa di simile vedere esattamente quando e dove è successo qualcosa e intraprendere l'azione necessaria. Buona! Stiamo parlando di un dispositivo che da un lato può essere utilizzato come un normale alimentatore da laboratorio di alta qualità con tre uscite da un lato con tre tensioni fisse e commutabili e altri due che vanno fino a 30 volt e 5,2 ampere e che si possono collegare in parallelo e in serie. Posso regolarlo attraverso la manopola di sempre o regolare i valori tramite la tastiera. Posso anche memorizzare processi specifici come l'uscita di valore di tensione e valori di corrente. Posso recuperare quei dati e vederli graficamente. Bene! Un alimentatore che offre più prestazioni del normale. La connessione di rete aggiuntiva USB per connessioni brevi oppure la rete locale offre altri vantaggi. Non deve essere vicino al dispositivo quando lo ha una certa distanza nel campo di prova e devo visualizzarlo e controllarlo da un altro lato. Bene! Per riassumere il PCE PPS 3305 della casa PCE è un alimentatore potente e non esiste lavoro che non possa fare con questo dispositivo. Scopri e trova i nostri strumenti di misura su